Il fotografo Armando Di Antonio dedica un libro fotografico a Teramo, la sua città. 27 immagini, anzi i frammenti urbani, come l'autore li definisce, sono in mostra fino al 31 ottobre all'Arca, il laboratorio per le arti contemporanee di Teramo. Era una cosa che volevo fare da tanto tempo ma non ero mai riuscita a portarla al termine. Nonostante abbia tantissime foto di Teramo fatte per lavoro ma anche per il mio gusto personale. Cioè avevo deciso di ricominciare questa cosa da capo, cioè fotografare Teramo da zero, secondo le mie visioni. L'occasione è stata, mentre stavo rileggendo degli scritti di Luigi Ghirri, c'è stata una frase che mi ha colpito particolarmente. Questa frase diceva, tutte le cose dovrebbero essere osservate seguendo movimenti e angolazioni che ci portino a vederle meglio. Io all'inizio sembrava quasi una cosa banale, però in effetti riflettendoci non è così. E infatti ho cominciato a girare per Teramo e quindi ad andare nei luoghi a me più cari all'inizio. E quindi ho cominciato ad osservarli utilizzando molto tempo e tornandoci più volte. E mi rendevo conto che queste cose che io vedevo alla fine non erano quelle che avevo visto originariamente. E ho avuto a conferma di questo perché avevo deciso di fotografare sia cose che mi piacevano ma anche quelle che non mi piacevano. Teramo è piena di queste contraddizioni. E con mia grande sorpresa ho notato che una volta divenuta immagine quella foto stampata era veramente diversa da quella originaria che avevo in mente. Il testo critico presente nel volume Teramo, frammenti urbani di Armando Di Antonio è stato curato da Gabriele Dautilia, docente di fotografia e cinema all'Università degli Studi di Teramo.